Musica Musica 14 febbraio siamo in piazza della Repubblica Firenze dove centinaia se non migliaia di persone sono date appuntamento per una giornata contro la violenza sulle donne ci sono infatti dati allarmanti diramati dall'ONU per cui su una popolazione di 7 miliardi di persone di cui circa la metà si presuppone siano donne un terzo nel corso della propria vita si sa già che subirà una violenza quindi sono dati veramente allarmanti si parla di un miliardo di donne l'anno che subiscono violenza nel mondo e a partire da questi dati la scrittrice Eve Ensler ha avuto quest'idea l'idea di organizzare un'iniziativa, un flash mob una danza collettiva, corale, bellissima, entusiasmante per veramente dire basta una volta per tutte cambiare questa cultura della violenza contro le donne no more excuses, no more abuses we are mothers, we are teachers we are beautiful, beautiful creatures dance on my love, dance on my mind dance on my head and love dance on, be a face and move gotta stop the pain dance on it's like a time dance on in una domitula dance on dance 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti